Amici, Todaro e Pettinelli abbandonano, ecco chi saranno i sostituti. Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela Sudagospia, Raimondo Todaro non tornerà come insegnante di ballo per la prossima edizione di Amici. L'ex ballerino di Ballando con le stelle non sarebbe stato riconfermato per la stagione 2024-2025 del famoso talent show di Maria De Filippi. Todaro era approdato ad Amici nel 2021, dopo aver abbandonato il suo ruolo storico a Ballando con le stelle. La sua scelta di lasciare il programma a Rai per unirsi al talent di Canale 5 aveva generato non poche polemiche, soprattutto da parte di Millie Carlucci, che non aveva nascosto una certa disapprovazione. Nonostante le critiche, Todaro ha sempre difeso con convinzione la sua decisione. Intanto, tra le voci dietro le quinte si è parlato spesso di tensioni tra lui e Maria De Filippi, ma né il ballerino né la conduttrice hanno mai confermato tali indiscrezioni. Nonostante l'addio di Todaro, il resto del cast di Amici dovrebbe rimanere invariato, come confermato da D'Agospia. Tuttavia, sorge spontanea la domanda su chi sostituirà Todaro. Essendo specializzato nella danza latino-americana, il suo successore dovrà avere una preparazione specifica per mantenere alta la qualità del talent. Tra i nomi più discussi, spicca quello di Stefano Oradei, ex volto di Ballando con le stelle, che ha recentemente espresso il suo desiderio di unirsi al cast di Amici. In un'intervista, Oradei ha spiegato quanto sarebbe entusiasta di partecipare al programma di Maria De Filippi, poiché gli consentirebbe di continuare a fare quello che ama di più, insegnare danza. Mentre i fan si interrogano su chi raccoglierà l'eredità di Todaro, si apre la discussione su come cambieranno le dinamiche del talent senza uno dei suoi insegnanti più iconci. Chi sarà il prossimo maestro di danza latino-americana? Le risposte arriveranno nelle prossime settimane. Oltre all'addio di Todaro, anche il futuro di Anna Pettinelli come docente di canto appare incerto. Secondo quanto riportato dal Quotidiano. Net, due possibili candidati sono già emersi per sostituire i professori in uscita. Adriano Pettinelli, ex allievo di Amici, potrebbe prendere il posto di Todaro o unirsi al gruppo dei professionisti della danza. Per quanto riguarda la sostituzione di Pettinelli, il nome di Giusei Ferreri si fa sempre più insistente. Mentre l'attesa cresce, i fan del programma si interrogano anche sui nuovi talenti che entreranno nella scuola più famosa d'Italia. Tuttavia, solo con la prima puntata si avrà la conferma definitiva dei nuovi allievi. I cambiamenti sono parte integrante di ogni programma, specialmente in un talent show come Amici, dove l'evoluzione è fondamentale. La possibile uscita di Raimondo Todaro e Anna Pettinelli rappresenta una nuova sfida per il programma, che dovrà trovare figure altrettanto carismatiche per mantenere alto il livello dello show. Quali sono i vostri pensieri su queste sostituzioni? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti. Al prossimo episodio